Ah, ho acceso il telefono adesso, ho trovato tutti i vostri messaggi, una ripresa, il peggio è passato, sì è vero, il peggio è passato. Sapevo che la prima notte insomma era la pedificia, quindi sono contenta, è fatta, ciao! Dunque, oggi sono un po' stordita, quindi sto già sbagliando a parlare. Ieri sono stata operata, però niente video perché non... beh, subito dopo è stato un po' difficile. La notte è stata dura, però adesso via via che passano l'ore va sempre meglio. Avevo un sacco male allo stomaco, praticamente sono tre taglietti, però poi la cucitura parte da qua, arriva fino a qua. Quindi tutto l'addome, quindi si sente, però piano piano riesco a muovere un po' di più. Poi non lo so se avevo un occhio aperto, le luci della sala operatore hanno bruciato praticamente. Sentivo delle coltellate dentro l'occhio, quasi al pari del male la pancia. Comunque la notte è andata, non molto dormendo, ma adesso stamattina sto meglio. Dopo un po' di video sono andata in dolorifico e mi sono anche alzata. Adesso fanno uscire subito, dopo solo una notte. Mi sembra quasi impossibile, però tutto sommato, ma se si può, si va. Ciao! Allora, nel frattempo abbiamo interrotto il video perché è arrivata l'infermiera. Mi ha portato l'antidolorifico perché sono il nuovo un po' dolorante. E adesso provo a... Vabbè che sta facendo il video. Sto facendo il video. Mi fa perfetto, io ho le gambe aperte che metto la mia borsa. A non farmi ridere, che mi fa male. Quella è la mia borsa che mi serve per mettere dentro il drenaggio che sta qua. Me lo porti? Così me lo metto a tracolla. Vabbè. Questa è la mia camminata sicura? Sì, infatti. Ok. Mai più senza. Ho sbagliato. Ok. Ole! Siamo pronte. Sì. Dritta, eh? Molto dritta. Stiamo andando alla macchina al mio passo. Cioè, praticamente una rumaca va più veloce di me. Ce la facciamo. Aspetta, che tiene aperto. Aspetta. Andiamo all'ascensore nostra. Ah, sì. Che quella piccola faceva... Era un loculo più che un ascensore. Però qua non ce lo specchia. Eh, eh. Fai talmente pulito che ci si specchia comunque. Ti vedo riflessa. Si va a casa. Ah. 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 Ah.